Dal sangue versato al sangue donato al Tribunale una raccolta per apprezzare la vita. Si svolta oggi presso il Tribunale di Siracusa la giornata di raccolta sangue denominata dal sangue versato al sangue donato organizzato dall'Associazione Donatori e Nati della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. L'iniziativa suggerita dal Presidente del Tribunale di Siracusa, dottoressa Dorotea Quartararo, ha visto la partecipazione dei donatori appartenenti alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco di Siracusa e agli altri appartenenti alla Forza di Polizia, alle Forze Armate, all'Amministrazione della Giustizia e all'Amministrazione Civile dello Stato e della Provincia di Siracusa. L'auto emoteica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con a bordo il proprio personale medico e paramedico ha accolto i donatori e i pre-donatori. L'immagine suggestiva è stata regalata anche dai veicoli della Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco. Donare sangue e vita è di straordinaria importanza e la sinergia istituzioni volontariato vogliamo essere riferimento ad esempio affinché le nuove generazioni possano apprezzare la vita afferma Tina Montinaro, Presidente dei donatori nati Polizia di Stato Sicilia. Grazie